Era il 1998 quando la saga di Urza faceva il suo ingresso nei negozi di figurine di tutto il mondo e veniva dato alle stampe Gilded Drake il controlla creatura più a basso costo di mana mana value si direbbe oggi mai stampato due mana per una terza e volante che entra un trigger vi fregate una creatura e gli date il famoso Gilded Drake e io lo posseggo lo flexo e ho poco da raccontarvi sulla sua storia competitiva perché io fondamentalmente al tempo non giocavo a Magic immagino che comunque fosse una carta che si giocava in standard perché mi sembra una carta dal power level abbastanza forte cioè nel senso a due mi prendo il tuo miglior pezzo e ti do una 3-3 volante e d'altra parte non si gioca praticamente in nessun formato competitivo di Magic ma si gioca in qualunque commander di qualunque cioè se c'è il blu se gioca a Gilded Drake giochi non esiste un'altra roba comandante è in comandare quindi tra l'altro roba pure comandante like sulla fiducia la signora di Gilded Drake Leonardo Cortese stiamo portando BertinPod questo è il secondo video della serie ieri ci hanno arato si in malo modo poi per non dire altre parole molto più spiacevoli e bannabili esatto una su youtube che fa come ti pare ah ok vabbè allora ok lì c'è il twitch che dici una cosa fuori dai gang lì su youtube lì sta un tempo su twitch si sono molto sai il capitalismo permette questo e l'altro l'importante è che tu fai fare soldi no sto scherzando ovviamente però insomma dicevo Gilded Drake è una carta molto particolare veramente per come è fatta tra l'altro mi diceva il buon Leonardo che è molto probabile sia il reserved list si è per questo che il suo prezzo è salito sempre di più ed è per questo che io lo metterò in una bustina adesso perché ha solo la perfect e dico ma forse si merita una bustina di cuoio non lo so una cosa del genere eccolo qua ottimo Gilded Drake ve lo volete comprare e lo vende non lo so lo vende io nel mio modo tengo vero bra furbo 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 sì perché mi sa che comunque le carte da riserva se venderle non è non è adesso intelligentissimo ok abbiamo una mano di fango ok come al solito però mulligan esatto mulligan si può fare allora qua ci abbiamo proviamo a fare finalmente cabal therapy con quel coso esatto ok quindi levo la Dria d'arbor sì levo la Dria d'arbor e qua facciamo perché vogliamo fare i cabal therapy di primo e poi prendere il stavolta non sbaglierò signori risolto o sbagliato che nomini al buio al buio non è sempre brainstorm perché cioè proprio la carta più giocata più giocata e poi la carta da cui si riprendono dopo una therapy cioè se tu tipo qua chiami Forza Will e lui c'ha brainstorm in mano si rifà tutta la mano ok perfetto quindi subito chiami quella secondo me brainstorm si ride scatta zio prego tra l'altro la sua mano contro me non fa nulla perché ha un prismatic ending che non ce ne va veramente nulla che gioca questo? questo è un controllone me sa che punta vince con le terre noi abbiamo il nostro magus pronto a prontissimo pronto allora qua però facciamolo però perché questo lui pure ovviamente giocherà i terre base però vabbè facciamo questa cosa beh dai ci ritroviamo più terre pure noi esatto tra l'altro prendiamo noi proprio prendiamo foresta e isola e ci facciamo subito pure un perché entrano stappate le terre che levo? eh forse endurance che prismatic ending ovviamente non ce ne va cioè che ce ne va a noi verde blu non lo so ci leva pod se fa 4 colori oppure bravi tosta cioè non so se è meglio secondo me è meglio col fatto che abbiamo che lei ne l'entra leverei endurance va bene levi a endurance lui comunque le basi che ce l'aveva qua poi noi passiamo e a fine turno facciamo un serpentello madonna che culo no anche la carta da chiamare ah lui ha pescato uro che insomma male 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 tra l'altro c'è la verde blu c'ha tutto per fare uro farà uro però comunque noi abbiamo insomma il punto è che noi non avendo una combo perché questo mazzo di solito almeno esatto c'è in una partita di questo tipo contro control c'è la gestiva che ha una combo ma noi moriamo pure da field of the dead ma c'è con magus sì no c'è con magus che lui ci leva con prismatic ending che tu non mi hai fatto levare ti faccio notare però insomma vedete l'espoio green sun zenith ancora che non prendo magus non so se forse farei glenelendra perché se lui non ce la leva subito comunque poi abbiamo sempre lui i quattro colori non li ha se glenelendra poi rimane a terra effettivamente può rappresentare un piccolo problema però e no stavo pensando al green sun zenith per leovold qua si leovold forte si ponder infatti già qui mi spiace i brainstorm te li abbiamo scartati si è veramente pesantissima comunque la grappa terapy cioè comunque è bellissimo che sia stato registrato su un video no ti prego non fanno il quarto colore c'è là ah c'è pure il quarto colore per fare forse però non so l'endurance comunque mi dava un po' mi dava fastidio cioè poi non sape non conosco bene il mazzo quindi non mi aspettavo in realtà a giocasse i quattro colori però qua è buono perché lui ci ha tolto removal se noi qua li prendiamo leovold cioè lo blocchiamo abbastanza quindi anziché fare i due pescanti prendiamo leovold anche che kitchen free possiamo prendere il nostro 1 che grist al momento non mi sembra la carta forte grist non è un coglione però se lui gioca comunque il vero problema è che c'ha 6 terre di nome diverso cioè ora fa la settima esatto inizia a farci però noi possiamo abbiamo plug engineer che comunque ci li fa diventare 1-1 che non è la soluzione però la gente c'è morta deve plug engineer ogni tanto però di certo non può fare un ruolo del cimino cioè lo fa infatti lo sta facendo però non pesca non pesca e soprattutto comunque noi lo gestiamo tutti i dettacce infatti quindi va bene stra buona come cosa non pesca non pesca vero? ha pescato? eh allora è un problema di errori di mtgo perché comunque non ragazzi ditemi se ho sbagliato ma secondo me ha pescato no sono sicuro che sono i bug di mtgo che uro spesso deve far pescare se non dovrebbe non è la prima volta che mi succede beh fastidiosa come cosa non bellissima vabbè sì anche perché lui non dovrebbe pescare però pesca comunque quindi ma ce ne accorgeremo di sicuro lui tra l'altro effettivamente l'ha fatto ho sbagliato dove lo prende blu sì perché facciamo no vabbè no vabbè ah perché non ce l'abbiamo va bene ne facciamo uno dai ne facciamo uno faccio questo così lo prendo in caso e boh non so che dirti cioè fastidioso adesso tra l'altro fa altri due zombie e noi dobbiamo assolutamente trovare sto like engineer nella speranza che poi ci salvi un tanto magus che almeno non fa più così non li fa più per ora ne ha fatti quattro che comunque gestibilissimi non so vediamo allora ha due carte in mano ora che attacca con uro non dovrebbe pescare a causa dell'interazione con l'io quello dice qualunque pescata non dice it shop e kendra morden one card e non ha attaccato lui quindi non lo sapremo mai ah noi i zombie li gestiamo pure se pescassimo il nostro grill titan insomma vabbè però intanto pure lui attacca forza will wow dalla mano proprio ok baitful streaks per vedere la situazione non so se qua anche forse potremmo prendere griste e spaccarli uro che palle ma lui non ha attaccato per non farci fare terre secondo me la situazione sarà simile se continuiamo io posso fare green sun zenith da due per prendere gilda drake e fregargli questo affare no perché dice solo verde zenith mi pare ah c'ha giusto è quello il problema perfetto quindi posso prendere melman pure melman in questo momento di stallo gli tagliamo le carte al cimitero forse ci potrebbe sta non so non me la collo lo faccio attaccare e vediamo che succede comunque lui pesca una carta a turno come noi in teoria finché c'è l'ehold anche se prima la pescata ogni prismatic ending dovrebbe essere non fa niente è duranza comunque è carino è carino allora tu volevi prendere la pace da tezzare o passiamo e facciamo a fine turno comunque potremmo inizia a menarco i volanti almeno con uno forse era il caso di menarco i volanti si io morirei con tutte e due tante in caso abbiamo l'altro in mano posso fare tutte e due posso fare sia gotlock e endurance farò tutte e due forse lo zenith forse me lo terrei al momento teniamocelo cosa va a prendere comunque di più grosso tra non c'è niente ci prendiamo il nostro euro infatti dobbiamo prendere il nostro euro qua se vogliamo iniziare la partita lui che fa tre mana prismatic ending un'altra volta chiaro qui che facciamo noi lo facciamo peschiamo peschiamo e poi ci prendiamo un altro reward con green sun zenith no perché abbiamo levato non so se ti ricordo ah è vero scusate ero rimasto alla lista vecchia adesso abbiamo creato il card e vabbè è successo di certo quest'uro si attacca adesso non attacca più esatto perché poi abbiamo pure endurance per levargli il cimitero però lui inizia a fare tutti i gant ma non capisco però forse c'è effettivamente non mi sono sbagliato io che non era un bug cioè non ha pescato a me pare che ha pescato però perché c'aveva una carta ha fatto uno e poi è andato a tre carte infatti ha fatto doppia terra no mi sono perso vediamo vediamo che succede comunque endurance quando glielo faccio endurance vediamo perché se li attacca con uno ah faccio un danno a end combat faccio endurance così le diamo esplosivi da due male 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 questo male proprio male male esplosivi main deck grazie comunque di esistere gioco esatto e vabbè allora facciamogli spaccare questi esplosivi lui a pescare pesca stavolta a carte va a due vediamo se c'ha una terra meno male che non ce l'ha qui arriva questo sicuramente lui adesso spaccherà adesso non era chiaramente di dubbi e tropical island un po' così endurance endurance per bloccare uno zombie alla fine il suo lo fa non sto contentissimo di andare nel cimitero perché lui ripescherà delle cose adesso in teoria mette due basiche però a una certa non ce l'ha più diversa dovrebbe finirle le basiche dicono sia isola innevata che isola normale ma anche se entrano uguali mettono ah ormai mettono ah perché devi controllare set ok ok però ne ha solo una come immaginavo non poteva avere tutte queste terre perché mazzi il legacy tutte queste terre nel gioco un po' birthing pod proprio lui non un altro proprio lui allora possiamo fare great titan si possiamo fare great titan se ce va eh no great titan come lo facciamo che zenith è verde ah no però trust us che non facciamo in tempo ok e quell'affare prende questing beast si che al momento non fa nulla che non è che non fa nulla opposition angel me lo scusa agent me lo terrei in mano allora noi comunque pod levandoci due di vita possiamo farlo a tre esatto poi abbiamo uno due tre quattro cinque quindi possiamo fare anche zenith da tre possiamo fare zenith da tre tipo kitchen finks e spoddare questi in vista ok forse ci sta perché così dopo cioè ci leghiamo la possibilità di fare great titan dopo noi dobbiamo andare a prendere il nostro oro secondo me al più presto però mi sembra comunque sia onesta come giocata perché io faccio così e faccio zenith a meno che lui non abbia forse will non ce l'ha fortunatamente chi ah c'è pure grist c'è grist e anche witness che però non riprende nulla vabbè allora chi schenfinx sia ci spoddiamo questo muore ecco qua adesso tu continuare il video da solo pensare ti ricordi come si gioca a magic online perfetto allora gli diamo un attacchino e io torno subito ok ok Lui qui ci ha fatto Sto prismatic ending E ci ha tolto pod Quindi direi che Questa partita La vedo difficile Se pesca una carta Qua Ci potrebbe stare bloccare Perché comunque gli leviamo uro Che poi non può rifare al momento Quindi forse non è una cattiva idea Ti sei impossessato del canale? E ci sta arando Perché lui ha fatto Che ha fatto? Un'altra volta Un'altra volta prismatic ending E anche attaccato con uro Io ho pensato di bloccare con questi in vista Perché comunque stiamo morendo da quell'uro Qua potremmo prendere un melma per levarli uro a lui Che non mi sembra malissimo O il nostro uro O il nostro uro E forse lo possiamo anche rifare direttamente Però è altro questo Quindi forse Però il nostro uro ci fa pescare due carte Ci fa pescare però con melma non c'è la leva Di coso Di esplosivi E poi ci iniziamo Noi abbiamo un cimitero Con un sacco di creature E gli leviamo uro pure a lui Quindi forse ci potrebbe stare E così sia Mi hai convinto Uro Muori Ci prendiamo sì La melma Con la scavenging goods Sì Stavo un po' Ci mangiamo subito uro Uro basta zio Sì Poi vediamo il resto Tra l'altro noi abbiamo un position in gelo Aspettiamo una rispacchi Una fetch Non so se vogliamo attaccare Visto che tanto c'è esplosivi Almeno con Endurance Oppure così Pure con Finch Che era un po' A quel punto No lo rispacca Ok 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 Comunque abbiamo una mega Iper super melma Il problema è Sì Il problema è quello Ma lui non cerca mai Beh c'ha le fetch Penso sicuramente Ecco qui era forte Per esempio la questing vista No? Perché non la può bloccare Con i zoom Non era male Già Non era presente C'ha assolutamente le fetch Che non ha visto però Perché poi la prima faccia Facciamo noi Che la facciamo noi la carta Non mi ricordo No c'è Possiamo giocare quella carta Quindi noi cerchiamo E poi prendiamo la carta Ok Così guardiamo anche la sua lista Sì Ti ripeto Il fatto di fare euro C'è ecco Ci evitava Si fa Questo tipo Perché c'è Però comunque noi abbiamo sempre Come se ne giocassimo 5 Di euro Perché c'è sempre Zenit Che ritorna sempre nel mazzo Vabbè Questo momento è un bellissimo momento Tra l'altro così Non prendete Non fa un altro zombie Non l'avevo Questa emozione Non l'avevo mai provata Esatto No L'emozione di Opposition Angel È bellissima Opposition Quei cazzi Si Quindi ecco Cerco proprio Guardo la sua lista Dress down Endurance Expressive iteration Force of will Uno shark typhoon Degli altri euro Ah tra l'altro lui c'ha due carte in mano Probabilmente c'ha un expressive iteration Se ne sono i giochi una proprio Può essere pure Vabbè Abbiamo cercato una sua carta C'è una tropicale E non possiamo giocarla Non mi ricordo Sì Altro no Ah rimane esiliata Ok Finché rimane esiliata la puoi giocare Se lui attacca perde uno zombie E noi perdiamo 6 però C'è un sacco di creature comunque Cioè Quello si Quello si Che prometto Ogli e quelli zombie E Praticamente Non C'è Tosta Era proprio quest in beast La carta vera In questo momento era Eternal Witness Per quest in beast Vediamo un po' Se riesco a pescare Eternal Witness Con Bateful Streaks E questo volendo Ci prende o uro Che forse è la cosa migliore Che lo possiamo Eh ma io voglio levarlo questo Non c'è ragione Secondo me Riusciamo col mana Per un mana Mesa non riusciamo a fare No Tutto e due è impossibile Ero per un mana solo Ero per un mana solo Beh lo potremmo Cioè o prendiamo adesso Cosa No prendiamo uro Dai Prendiamo uro Prendiamo Perché C'altro C'abbiamo anche possibilità Di ripesca zenith Di ripesca zenith Che ritorna sempre nel mazzo Quindi Ci abbiamo 30 carte Nel mazzo Se prendiamo adesso uro Peschiamo magari dopo Con altro zenith Comunque lui non lo gestisce Adesso benissimo Uro Cioè ce lo rimbalza Nel caso Noi lo rifacciamo Ho capito Mi sembra l'unica carta Che passa sopra i zombie Comunque Al momento Uro Uro se peschiamo terra Lo facciamo Poi Se lo pesca E' uguale O foresta O isola O fetch Eh le fetch Però abbiamo finito Le basi Prismatic vista Tipo non facciamo niente Vero Vabbè Chris Ah Chris Leva a jace Chris Leva a jace Hai proprio ragione Ci esachiamo la strix Penso Hai proprio 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 Tanto ragione Se lui non ha counter Chris Leva a jace Questo ce l'eravamo perso Perché volevamo anche di zenith Prendere direttamente Chris Giusto E farlo A meno che lui non abbia Ah no Però stavolta Non lo può fare Perché io ho tre creature Certo Io comunque Voglio scartare Cioè voglio levare questo Perfetto Dunque questi matchappo D'attrito lunghi Il mazzo comunque Cioè se la gioca Secondo me Perché Ripeto Cioè Field of the dead Noi non la possiamo battere Comunque Guarda quante cose abbiamo Esatto Guarda quante cose abbiamo 4 mana 5 mana Che fa Ah il famoso Shartful Monocopla Con cui ci ammazza a Chris No forse ce ne aveva 2 Uno ce ne aveva in mano Con cui ci ammazza pure a noi Perché noi Non volate Vabbè In verità noi Però stiamo a 17 Ci abbiamo Uro Lui sta comunque quasi a Uro Cioè Due volte rientra Sì Sì A occhio e croce Sì Cioè non è Proprio l'ultimissimo arrivato Dai Non l'ultimissimo Infatti lui attacca No attacca Chris Sì attacca lì Tra l'altro noi Noi stiamo bloccando pure le fetch Adesso Sì sì Lui sono faceva doppio zombie Ogni terra Ok che ci ha tolto Scavenging in curso Ok Però vuol dire che c'è un altro removal Sennò poi si becca uno E non valeva più C'è un altro removal Sì Che significherebbe Che c'è un altro La spada spirit Che significherebbe Che la nostra partita E' finita Sì VertinPod Prende Niente Dovremmo trovare Noi abbiamo sempre la witness Che ci riprende la Westinbeast Ci riprende Chris Volendo Che succede A lui è front of the room Un problema quello Perché Soprattutto senza melma Esatto Non può fechare E quindi non la vuole Mettere al cimitero Però Ha fatto l'ennesimo zombie Con una carta in mano Oh che bella carta Allora prima faccio pod Perché così In caso poi voglio Spoddare Uro Però lui c'ha da spade a spighe E me lo fa in risposta Al trigger Sì Quindi vabbè Comunque io l'ho fatto Poi dal limite Spoddo questo E prendo Niente Perché Glemendron è morta Giusto? Volevamo mettere Che volevi mettere Non mi ricordo Non mi ricordo più Da cosa qua Ti abbiamo detto A un certo punto No era la 5 La Titania Ah volevi mettere Titania Ok Levo vedere un Explorer Sicuramente Tutte le terre Poi aveva un Kotl O Strix Sono quelli che ho di più Quindi Le ho tutti Ma Crystal Cimitero Forse non mi serva a niente Ma c'è Witness Per riprenderlo Non so per questa partita Quanto serva Purtroppo ripeto Abbiamo due drop a 3 Mannaggia Non possiamo fare niente Con Pod Questo però Già ci prende Gilded Drake Potenzialmente Che adesso Non so cosa fa Però lui per esempio Ha finito le terre Anche noi però Abbiamo finito Le terre e balle Vabbè Non ci interessa Però prendiamo un drop Sì Prendiamo un drop a 2 Anche intanto No così facciamo la catena E dopo abbiamo un drop a 3 Gli prendiamo Magus Volendo che gli leva Tutti i colori Gli leva la terra I zombie Tanto la terra C'ha da un amore Lui invece Le ha finite Ok E drop a 2 E io Prendiamo Sì Preschiamo Sì Preschiamo Mi difendo da quel coso Oh un fetch Fetch che prende Dria d'arbor Volendo Fetch prende anche Dria d'arbor Sì Fa il cimitero Beh qua Comunque stiamo Entrambi al top deck Noi abbiamo pod Noi abbiamo pod E Uro Però secondo me Uro non dura Uro non dura Vero Però Blu verde Snapcaster Per quello ci ha tolto Quella melma Ok La spada a spighe Peccato Daniamo 6 Però dopo volendo Potremmo prendere C'abbiamo sempre 12 danni di zombie Perché se no potremmo prendere Intanto il magus O il magus O quello che da Meno 1 Meno 1 A lui c'ha un altro Uro Comunque sia A mano vuota Non male Poi è vero Poi è vero In legacy Peschi solo bombe Eh Non è che c'è Però Molto giuste le carte che ho Poi ha pescato Sì sì no È vero Ha pescato Niente Stava comunque quasi al top deck Tanto questa è la partita Che gli abbiamo tolto doppia brainstorm Sì esatto Quindi Pensa tu Tra l'altro se paschiamo una cabaltera Non sappiamo che farci Non ci facciamo con niente Forse vabbè Ah perché ho bloccato Non ho bloccato Forse comunque qua Prendere a fine turno della tavola Per evitare di pescarla Sì qua forse Tengo il drop a 2 Sì dovevo tenere il drop a 2 Per fare una cosa a 3 Qualunque stasera Pescavato Se non abbiamo La fetch Per il mana rosso Allora qua Sbottiamo quello Prendiamo un altro Veterano Mi sa Ah potevo prendere Tyga Prima Mannaggia Il gerarca E che serve Eh vero Sì non serve Sì potevamo prendere Tyga Cioè diciamo che Speravamo di non pescare Il magus Proprio magus Abbiamo finito Prende le carte del magus Cioè abbiamo 4 zen Che prende Tractas Che sarebbe buono Perché lo spodiamo In Grave Titan Esatto Beh prendiamo drop a 1 Se lui ci fa uro Io lo rubiamo Con Gilda Drake C'abbiamo sempre Quei 12 12 danni di zoom Giusto un po' Però vabbè L'idea è quella E basta L'altro pescofetch Gliela levavo Sì io qui dovevo Che mi sono preso E' preso Materna A volte è pericolodissimo Lasciatelo bannato Che stiamo matti Prismarick ending È il problema Ma pure sta che le va a pariscio C'è un problema Ma di si gioca un po' Meno adesso Ma lo inizia a giocare Con Leva tutte le abilità Delle creature Il che vuol dire Che finalmente Può fecciare Non vedo la l'ora Solo che il turno Mi pare Però sì Che significa Io comunque Ah beh c'è un po' Che se fecce lui Ma tra l'altro lui Scusa C'è rimasta nel mazzo Quella di da meno 1 Meno 1 a tutto Sì sì ce l'abbiamo Non l'ho vista Il problema è che c'è solo Un meno 1 Meno 1 Perché l'altro Ce l'abbiamo inside Vabbè dai Non possiamo Sì non si può riprendere Non si può riprendere Che pescavamo Per curiosità Pescavamo Niente Ci servivano zenith Sì sì Vabbè qua Clodis è un problema Se non è per lui Certo Vuoi mettere questo Trun sì Vuoi mettere queste Vuoi mettere anche quelli Sì Le engineer Per rispondere al Non lo so Vediamo prima Ma bene Cosa Ah forse pure Carpet of flowers Comunque ci fa rampare Anche se lui non gioca I days Però ci Le pyroblast Forse Gli leviamo Risolviamo uro I jays Ma che leviamo E leviamo tutte le carte Che meno belle Contro di lui Ad esempio Cioè il magus In realtà Lui c'è un sacco Di terre base Non mi sembra Beh però gli levi Quella giusta Ah qua forse Non so se levare La iveco Tre veteran Che comunque gioca Tante terre base Tre veteran Un magus Magus ci pensiamo Perché chi ci risolve Quella là Potremmo arrivare Una Uno streaks Perché comunque Ne giochiamo Già Già Quattro Tutorabili In realtà Forse È il nostro Modo per vincere Sì In realtà Lo terrei In realtà Non lo terrei Cabal therapy Le therapy pure Non so Bellissime Soprattutto se Le chiamo Con il veterano Perché lui Mi sembra Che non gioca Tante carte Uguali Tanto 4 Potrebbero Anche levarle Tutte Le therapy Sai Cioè Alla fine Prima ci ha detto Bene Che abbiamo Chiamato Brainstorm Però Giochiamo Mazzovaglio Cerchiamo Di far Il valore Più Mazzimo Lui ha risolto Tante minacce Nostre Eppure Noi Tante sue E ti ripeto Se scartavamo Quell'ending Si Non ce ne Le lendra Fa un giro Basta Un giro Risolvevamo Tutti Il jazz Che ha fatto Do La spada Spir Che ha fatto Do Lì Non ci avevo Pensato Che subito Facesse Quattro Colori Comunque Non Conoscenza Un mazzo Di Quelli Che gira Un po' Meno Si Beh Immaginavo Comunque Avendo Field Tante Terne Quindi Quell'idea Era Quella Sì Fondamentalmente Perché poi Scusa Cosa abbiamo Scartato Noi Anziché Endurance Endurance Non era La scelta Giusta No No E' vero Che poi Siamo Andati A partita Lanzata A fare Euro Eh Però Lì Avremmo Tutto Quella Poi Lui Ne ha Pescato Un'altra Su Bert In Però Penso Sia Un mazzo Tipo Come Dicono In Commander Appilate Bombe Insomma Quando Giochi Tutte Carte Bombe Sì Niente Magus Doppio Per fare Ratta Ci sti zombie E' difficilissimo Però in fondo C'ha Detta C'è Blocca 1 Blocca Poi Non so Se anche Lui Gioca A Cotter Non Blocca Forse Magus Forse È Forte In realtà Infatti Vabbè Vediamo Dai Qua Potremmo Fare Zen Però Non Abbiamo Nero Però Abbiamo Zenith Che Prende Accelerino Subito C'è Prende Ria C'è Lo so Vabbè Comunque Mestiamo Una Carta Lui Gioca Comunque Forse Will Potrebbe Forse Will Arci Star Anche Perché Se No Cosa Fa Da Spada Spiche Sul Dried Sì Forse Non Possiamo Fare Eternal Witness Per Zenith Per Passare Qua Io Passerei O Attacchiamo Cotria Certo Esatto E poi Facciamo Ma Fa Scema Dino Fino Edurna Sfan Coat Apri Che Non Lasciò Rino Nation Sage Ragazzata Questa Non Mi Ricordo No Sono Esplosivi In Effetti Si 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 Sbagliato Diciamo Quelli Che Pod Ammas Tante Monocopie Si Si Una Monocopia Si Ma Brainstorm Turno Su Magari Effettivamente Un Pancartata Lo Pancartata Lo Potrebbe In Poi Ci Affecci In Manu Se Sciaffla Tutto Si Si Al Prende Prende Foresta E Fa Lui Carpet Of Flowers E Quindi Noi Ci Abbiamo Reclamation In Manu Incredibile Lui Qua Rampa Però Lui Rampa Un'isola Si Non so Se C'ha Qualcosa No Sto Niente Spero Che Non Faccia Nulla Con Quel Mana Ma Quando Rampa Il Manu Nella Su Prossima No Adesso Cioè Nella Main Face Quindi Nella Prima Nella Seconda Main Face Cioè Se Non Lo Fai Nella Prima Non Lo Puoi Fare La Seconda O Itch Eh Però Se Non L'hai Giunto Mana Con La Carta Quindi Se Lo Fai Prima Molto Bella Questa Molto Bella Tutta La Vita Reclami Perché La Fama An Più Ma Sembra No Anche Che La Carta Ripeto Era Morta E Invece Tac Tra Altro Voglio Eppure Agrarlo Cioè Se Io Li Faccio Tutte Queste Carte Lui Si Baserà Su Uro Adesso Farà Terra Uro Io Gilde Drake Guarda Vedrai Infatti Si Basa Su Uro Io Faccio Tractas Attacco Lui Fa Uro Dal Cimitero Tutto Contento Faccio Gilde Drake Tra L'altro Non A Terra Quindi Insomma Non Benissimo Oppo Poi Pensiamo Perché Forse Taiga Iniziere A Prendere Per Poi Se Pesca Pairo Blast Prendo Taiga Oppure La Witten S Una Sfiga Taiga Presa Questo Pre Combat Proprio Te Faccio Che N'hai Sto Mai Si Ti Lui Che Dato Con Le Terre Non Ha Neanche Forza Will Ora Deve Pescare Terra Per Regalare Al Mundo Un Uro Che Verrà Esatto Molto Importante Che Succeda Certo La Tretra E Poi Ammazza La Gente Si Però Comunque C'è Resta Qui Wasteland Wasteland Ce ne va Tria Darbor Pensa Tu Ma Cazzo E' Cartata E Brutto Sotto Danni Per Lui Chiaramente Arriva Grist Grist Li Hold In Questo Spot Ah Perché O Cantrip Lo Non Pesca O Comunque Ce Fa Pesca A Noi Se Ce Far Remover Ah Questo E' Stato Un'errore Questo Si Però Comunque Dai Non C'è Colui Stacchiato Con Le Lande Non E' Proprio La Fine Del Mondo Vabbè Mo Che Blocca Cataract Lasca No Blocca Quello Che Sono Abbastanza Tra Altro Cosa Non Adetta C'è Questo Non Ci Ho Fatto Caso Che Ci Abbiamo Solo Deve Le Cose Nevate Grist Anche Glotis In realtà Certo Lui ha 9 Glotis Effettivamente Interessante E gli esiliamo Poi Uro Se non Lo fa Adesso Perché Glotis Mi pare Dice Prima Fase Vincito Se non Melmo Per levargli Uro Visto Che il suo Mazzo Se basa Su Quello Pure Non Non È Malvagissimo Perché Grist Si Qua È Forte Però Forse Effettivamente Era Meglio Ma Si Chiama È Che Melma Aggra Pure Perché Adesso Lui Sta 9 Melma Diventa Grossa Potenzialmente No C'abbiamo Due Creature Noi Che Out Cazzo Tira Tardo 5 5 Potenzialmente La Deve Toglie E Me Lo Alturo Perché Se Vede E Caracas Però Se Ce Lo Spaccati E Qui Comunque Poi Attacchiamo Tutta La Vida Dai Pure Che Ce La Uccide Penso Sì Tanto C'è Il Brindiamo In Mano Volendo Un Witness Attaccare Non Fa Perché C'è Qua È Una Gara Di Valore Lui C'ha Quattro Carte In Mano Con Qui Vuole Fare Valore Noi Purtroppo Abbiamo La Merda Le Non Comuni Però Ogni Tanto Fanno Valore Questa Nove Dai Cinque Danni Sul Board C'abbiamo Gilded Drake In Mano Se Per Caso Ci Tira Fuori Qualcosa Sì Creature Diciamo Che Che Non Sono Il Suo Forte Di Certo Noi Non Possiamo Fare Uro Perché C'è Quella Karakas Che È Giusto Un Po Forte Anche Se Comunque Magus Of The Moon E Forte Sì Lo Rimettiamo Sicuramente Ah Qua Il Piano Potrebbe Sbottare Tractask Per Gravitare Danna Danna Vabbè Intanto Attacco Ho Paura Di Un'altra Endurance Però Attacchiamo Lo stesso Secondo Me Vediamo C'è Endurance Eh Una Rosicata Si Una Rosicata Che C'è Fa Pensavo In realtà Che C'è Endurance L'avesse Fatta Prima Che Noi Facessimo Uro Comunque Beh Ma C'è Karakas Se Rimbalzo Ogni Teo Ogni Tre In Mana Peschi Una Carta E Guadagni Tre Vide Comunque Diciamo Che Noi L'abbiamo Fatto Caro Amico Ti Scrivo Per Liberarci La Tractas Che Forza Ci Porta 33 33 A 7 E Chi È Quella Che Ci Blocca Ah Pensa Un Po Meno Male Che Non Abbiamo Questa Scusa Blocca Tutti Tutto Perché Dice Se Non Cassini Blocca Sia Zenith Sia Bosto Sì Ma Tratto Noi Non Abbiamo Risposto A Quella Carta No Ci Abbiamo Grisse Però Sempre Vattuto Orato Tramite Cose Che Fa Questo Maghetto No Perché Questo Se Diceva Opponent Così Non Va Bene No Serve Sicuramente Nella Prossa Versione Di Questo Mazzo Ci Deve Essere Un Decay A Pantera Come Si Chiama Entra Spacca Creatura Qualunque Creatura Metti Cioè Se Lui Ti Fa Quello Poi Non La Puoi Tutorare Quindi Forse Qualche Decay Qualcosa Noi Dobbiamo Fare Questo E Attacchiamo Secondo me Con 5 3 Si Mi Ploca 4 4 Però Mi va Bene Perché Il 3 3 Più Grosso Dei Suoi Pezzi Faccio Il swap Che No Faccio Adesso Io Fare A Fine Turno Su Ah Vabbè Si Shal Si L'avrei Fatta Ma Io Era Solo Per Evitare Varie Deventure Ci sta Comunque Non è che Camaro The touch Quello Mena Le persone Visto E' Considerato Che A Volare Ed è Una Caratteristica Comunque Ci piace Lui Jace Lo risolvevamo Con Pod E Witness Prendendo Il 4 4 Imbloccabile Però Ci ha Fatto Comunque Containment Priest Direi Che Non È Un Nostra Sì Diciamo Che Questo È Il motivo Per cui Pod Non Si gioca Perché Tutte Le carte Che Già Si Giocano Di Side Tendono A Ammazzare Il Mazzo E Qua Scusa Ma io posso Far entrare Una 3 Volarte No Perché Lo sacca Dice Cioè Se tu Non Ti dice Per forza Che lo Devi Fare Se Non Lo Fai Si Sacca Mi Sembra Cioè Mi frega Una 2 2 Io Una 3 Volante Direi Che Non È Un Par Piano Peccato Che Questa Non Dice Opponente Comunque Una Carta Jace Signore Signori Qua Chiaramente La partita È Finita Dove Pescare Grave Titan O Grist O Grist Anche Grist Non Abbiamo Creature Però Le fa Lui Cioè Le fa Le fa Lui Sì A Lui Comunque Già Salito A Due Sì Purtroppo Che ha Fatto Gist Ha Fatto Meno Uno Su Qualcosa Che A Due Forse Però Ci avesse rimbalzato Qualcosa Però Quanto pare Sì Ah Sulla Venina Di Tractask Che male Perché Infatti L'avamo Attaccata Apposta Perché Così Avevano Un 3 3 Insomma Che Era Più Grosso Del Su Due Che è Successo La tua Fetch Ha Preso 3 1 4 5 6 E Poi Penso Lui Di Field Of The Dead Non Giochi Uno E Non Ha Modo Per Tutorarsi Quindi La Partita Di Prima Senza Field Of The Dead Oppo E La Vincita Proprio Adesso riprende in mano lui Già Giusto Quindi Siamo morsi Ma Adesso Pescheremo Grave Titan Questa Prende Tria Darbal No Mi sa che E' esitiata Tria Ah no Non è E vabbè Ma che c'è C'è Però Posso pescare Una Pyroblast Comunque Lui al momento Non c'ha Pressione Sul board Io Aspetterei Un attimo Vai Peschiamo Una Pyroblast Ce ne abbiamo Due Sì Il 4 4 Che mena Pesca C'è Un Kid of Il deck del mazzo ci stanno No Beh Dopo almeno Più Nuo non Mena più Due 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 Sì Tra l'altro Con Tundra In gioco Quando io Faccio Gilda Drake Se lo Può Rimettere In mano Sì Sì Esatto Proprio A dirla Tutta Prismatic Handing No Pensa un po Vuole vincere Di certa Che bravo Comunque Vedi È un giocatore Che vuole portare Spettacolo Nel gioco Del magic Questo è bello Ora ci spacca Tagga E noi pescheremo Siloente La Pyroblast Non c'è dubbio Guarda Sei pronto Andiamo a prendere Una Underground No Di l'arbor c'era Di l'arbor c'era Ma Non fa nulla Non fa nulla Non l'ho neanche presa Così Tanto per Solo per vedere Plate Engineer Ah questo Intanto Quello che cos'è Un umano Io quasi quasi Inizierei A Allora ne vediamo Un'altra Cerchiamo quel chiodo Difficile Però Mamma mia Quanto sei Generoso Proprio Eh sì Pyrexian Cosa Tiè Un umano Questo è quanto Comunque partita Lunghissima Sì perché Questo in realtà Infatti sui matchup La spada smica Vabbè Non voglio vedere Cosa pesco Comunque 0-2 0-2 Non è un buon inizio La 4-4 Te la risolveva Però non la peschi Tanto Pesco Niente Pesco Kotlin To Kotlin To Olanda No Proprio Mai 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 Allora ragazzi Il video direi che Abbastanza Finito qui Anche se dovessimo perdere Un'altra partita Ci sarebbe Una sola partita Domani Quindi invece Facciamo che Finiamo qua Che sono 40 minuti Video Dovreste essere Abbastanza contenti Di aver visto Questo spettacolo Dalla parte Increscioso Da una parte molto romantico E ci vediamo domani Con la fine di questa League Legacy Converting Pod Che attendevano tutti Grandi e piccini E' vero E' vero Soprattutto Chi è che diceva Grandi e piccini Non lo so Il pupazzo One Ciao a tutti Ciao